Siamo qui alla Campobase di Forme di Massa d'Albe per il decimo giorno di ricerche sul Monte Velino dei quattro dispersi. Pensate, da domenica non si hanno più notizie dei quattro escursionisti di Avezzano, Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella. Il decimo giorno di ricerche caratterizzato dalla presenza sul posto di una quarantina di uomini per quanto riguarda il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Altre tre squadre sono impegnate in Valle Gensana, più a Valle. Perché questo? Perché già da diversi giorni si stanno concentrando su quella zona. Evidentemente potrebbero essere state trovate delle tracce. Ad ogni modo la giornata proseguirà avanti così. Questa mattina c'è stata anche la visita del prefetto dell'Aquila Cinzia Torraco per dare sostegno e supporto alle forze di soccorso. La giornata importante però, Fabio, sarà quella di domani quando tornerà la potentissima antenna Recco, questa volta proveniente dal Trentino, non dalla Valle d'Aosta. L'antenna che sorvolerà l'ampia zona intanto per bonificare varie tracce metalliche nelle zone circostanti per poi concentrarsi sul sito indicato. Già da giorni quale possibile sito dove si troverebbero i quattro escursionisti sepolti, ma speriamo anche di no, dalla valanga di domenica scorsa in Valle Maie Lamma. Ieri il vertice in la prefettura dell'Aquila dove si è deciso di proseguire con le ricerche. Quindi le forze di soccorso non si arrendono e proseguono nel loro incessante, coraggioso, instancabile lavoro di ricerche dei quattro escursionisti di Avezzano qui in Valle Maie Lama. Allora il punto della situazione come detto, oggi lavoro concentrato su due zone in particolare, in Valle Maie Lama con una quarantina di uomini e tre squadre impegnate in Valle Genzana. Ma domani, ripetiamo, domani tornerà la potentissima antenna Recco capace di individuare tracce metalliche a molti molti metri di profondità e quello potrebbe essere un supporto importante. Smentita al momento l'utilizzo di una secondo battipista dopo il terribile incidente di sabato scorso con il battipista proveniente da Ovindoli, è agganciato da un Ericsson S-64 che però è precipitato da un centinaio di metri. Ci sono dei privati che hanno messo a disposizione i loro mezzi ma al momento non giungono conferme dalla protezione civile per quanto riguarda l'utilizzo di una secondo battipista. Ovviamente ulteriori aggiornamenti anche sulle pagine social nelle prossime ore, Fabio, qui da Campobase di Forme e Tutto, ti restituirei la linea.